Siamo a Gallerate, in piazza Giovanni XXIII, piazza della stazione, lunedì 14 giugno in corso un sopralluogo dell'archistarra e il maestro Morandini che dopo aver ridisegnato e rimpensato Varese fa tappa a Gallerate evidentemente. Il progetto al momento non è svelato ma se il maestro Morandini ha fatto tappa qua in città è evidente che ci sia una collaborazione, quantomeno un'idea per riqualificare e impreziosire questa piazza della stazione di Gallerate. È in corso il sopralluogo e fra i presenti c'è il sindaco di Gallerate Andrea Cassani.